dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio mancano dieci secondi siamo a cinque secondi proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi una bella restaurata a a a a a a a Oh Resta solo un operatore alleato Il nemico sta prendendo il contenitore Difensori eliminati, missione fallita Trovate il contenitore di biorischio Trovate il contenitore di biorischio ben fatto contenitore di biorischio trovato ancora 10 secondi 5 secondi all'inserimento raggiungete il contenitore di biorischio difendetelo è in aczione ok Oh no. Faccio un po' di fumo. Un operatore alleato rimasto. Un po' di fumo. 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 Ultimo nemico rimasto. Un po' di fumo. 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 Un po' di fumo.